Oh 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 Sì, ragione, voglio essere qui. Sì, voglio assuntire questi. Va avanti. No, grazie. No, due minuti. E allora, battendo le sue aviniere, si le conne arriva con un tremendo durato e si prese tra le donacce a San Giovanni e Gionna. Ecco, questo è successo. E ve lo posso assicurare. Tutto è storia per i tre due. E' un po' di tutti. Io simpatizzo per San Giovanni. Ovvio, però devi ammettere che ci sono delle cose che non tornano a dolore sia di lui che di tutti i tuoi seguaci. Non ha commesso a rapire, però ha permesso di roma.